Magnifica parte di sotto Vorrei sul palco Cova Giacomo che già c'è Delfo ci so Marcella Dominici Della Vedova Mione Cova Andrea, Roscini Moreno Oligarchi Aurelio Del Bianco Chiara, Betti Alessandra Ragni Tiziano, applausi Leggio Fabrizio Macri Lorenzo, Brizzi Luca Ciarulli Sandro, Ridolfi Stefania Roscini Veronica, Fuscaldo Emanuela Ragni Elisa, Lunghi Elvio Santarelli Emanuele Giancarlini Elena, Berti Matteo Ballarani Marco, Fabri Ferdinando Rossi Gabriele, Perini Enrico Balducci Francesco Che ritirerà il premio Elisabetta Secema, Nichini Luca, Angeletti Carlo Petrozzi Paolo, Rossi Gabriella Fusetti Sergio, Di Biagio Giuseppe Rossi Monia Sensi Federica, Zucchi Paolo E ultimo Ma è qui con noi e verrà qui il figlio Alberto Passeri E adesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a consiglio, grazie Il consiglio invito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ah, quel tifo E un saluto particolare del consiglio A Gianfranco Furtato Il Bosch Che è stato lui Il padronista di Scena Insieme a Stefano Grazie a Gianfranco Grazie a Stefano Grazie a tutti Che abbiamo perso Che abbiamo perso Ha rotto il cazzo questo affare Trappola vicino Trappola vicino Laura, tirati su C'è polvere Oh, mi piace Che mi fai raccoccolato Dove era nascosta Un po' dormivo Allora, adesso I animo voglio Cominceranno a sostenere gli strumenti La giuria segnalisce il canale di consiglio E prima del concetto Premeremo il gruppo Grande, grande Grande Giorgia Se ha cortato tutto Ese ha cortato tutti Tantale Non vale Non vale Il primo è il primo Il primo è il primo è il pezginino Un prigione bellissimo, una parte magnifica, sempre cede a te, cosa scopo a me? Tre anni... No, se non si va bene, non c'era un po' della merda. Nervi avete perso tre anni consecutivi. Nervi hanno perso per tre anni consecutivi. Auri! Auri! Carlo, c'è capelli! Carlo, c'è capelli! Carlo, c'è capelli! C'è la bottiglia piena, mano. E' bravo sotto. E' un'idea che c'è una. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. Aspetta anche il desporta. Vai, direttamente nel fuoco. registered... Rezie a tutti! Anche tutte le Ma testa Ma testa Ma testa Ma testa Ma testa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.